Ah, non ce l'ho messo, allora ce l'ho messo io, signor Führer. Ho detto tante volte, prendiamone meno, meno, ma che sia vino. A me mi bastano due dita, mi hanno detto solo, un mignolo, ma che sia un mignolo finito. Rispondi, il telefono che... Di pronto, di vai. Pronto? La portina via? Sì, subito. Da, sì. Jawohl, meine Frau. Tagli, Chef. Pronto? Sì, sono io. Buonasera, buonasera, signor Pizzicoli. Dica, dica. A mangiare. Eh? Mi dispiace, ma ancora non ho disponibilità, ecco. Sì, sì, lo so che è scaduto. Ma cosa vuole, signor Pizzicoli? Sto aspettando un versamento e purtroppo non mi hanno versato ancora. Abbia patienza ancora qualche giorno. Sia generoso, abbia patienza. Pronto, pronto. Signor Pizzicoli. Signor Pizzicoli. Signor Pizzicoli. .